Non è ancora iniziato l'inverno, anzi fa ancora caldo, ma già parliamo di Carnevale e di Bella Main che oggi viene presentata a Vercelli. Chiara Coccorullo, presentati tu. Sì, ciao a tutti, io mi chiamo Chiara, come è stato detto, Coccorullo, ho 26 anni, ho studiato lingue all'università, sono lavorata in lingue straniere, lavoro da due anni in un'azienda come rappresentante commerciale rapporti con l'estero. Che altro dire, ho un ristorante di famiglia, infatti penso di essere abbastanza, cioè molti mi conoscono, però diciamo che sono contentissima di fare questa esperienza. Quando ti hanno proposto di fare la Bella Main, perché hai accettato? Ho accettato perché è il mio sogno sin da quando ero piccolina e seguo il Carnevale da sempre, soprattutto con mio papà che mi ha seguito sempre negli anni, ho sfilato tanti anni, quindi quando sono venuti a propormelo a maggio ero contentissima e non vedo l'ora. Insomma è da maggio che aspetto questo momento, anzi aspetto gennaio con ansia per ricominciare. Biciolano, con una sposa così cos'altro c'è da aggiungere? Ben poco direi, solamente che speriamo di iniziare presto ovviamente questa esperienza, questa nuova edizione e soprattutto di riproporre, come l'anno scorso, l'Accademia Biciolana della Cartapesta, che avevamo fatto con i ragazzi della Cascina Bargè e della Comunità dell'Anfas. La vorremmo riproporre, ne parleremo proprio al tavolo della disabilità all'inizio di novembre e poi speriamo veramente di avere di nuovo i ragazzi con noi, perché sono stati veramente il fiore all'occhiello, un valore aggiunto per la nostra sfidata. Il Carnevale è dedicato al sociale, Chiara, quindi un mese di incontri intenso, questo aspetto ti preoccupa? Non mi preoccupo particolarmente perché ci sarà Luca che mi sosterrà e poi comunque è l'aspetto più bello del Carnevale, al di là delle sfilate, il portare un sorriso a chi ne ha bisogno. So che ci sono persone che aspettano tutto l'anno questo momento, quindi cercheremo di fare il nostro dovere, tra virgolette, nel migliore dei modi, per dare un po' di sorriso e un po' di felicità a chi ne ha più bisogno di noi sicuramente. Grazie a tutti.